Un politico di altri tempi, un giornalista con tanta voglia di scoprire, docente universitario e scrittore, un intellettuale democratico ed onesto, ma soprattutto molisano da ricordare. A due mesi dalla morte di Federico Orlando, le amministrazioni comunali di Campobasso e San Martino in Pensilis, insieme con la Regione, hanno voluto commemorare la sua figura. Alla cerimonia che si è svolta nella sala consigliare del Comune di Campobasso hanno partecipato la moglie ed una delle nipoti di Federico Orlando, politici, giornalisti ed amici di sempre. Un momento di riflessione su quell'uomo che durante tutta la sua carriera, politica e giornalistica, difese i diritti, i valori etici e sociali, il lavoro e l'uguaglianza. Vogliamo rendere omaggio all'uomo politico, all'intellettuale, all'uomo che ha lottato contro ogni conformismo, all'uomo che ha lottato per l'affermazione della libertà e del pluralismo dell'informazione, all'uomo che ha lottato anche per, ha condotto tantissime battaglie per la tutela delle libertà civili, per il ritorno dei giornalisti che erano stati ingiustamente allontanati. Federico Orlando è stato e sarà sempre un grande uomo, hanno commentato i presenti alla cerimonia. Emozionata la moglie e ancora di più la nipote per la prima volta a Campobasso, un lavoratore che ora non c'è più, ma che deve essere un esempio per tutte le nuove generazioni. Esempio per le nuove generazioni, soprattutto per i giornalisti, per i giovani che intraprendono questo mestiere, tenendo sempre conto che per Federico Orlando il giornalismo non era soltanto un mestiere, ma una vera e propria missione pedagogica, così come dice di lui il giornalista Giuseppe Tabasso. E nello stesso tempo non era neanche un giornalista a tavolino, perché in effetti bisogna ricordare poi tutte le battaglie che anche come fondatore e presidente dell'associazione Articolo 21 ha portato avanti.